Ora vi racconterò una storia di vigliaccheria e di eroismo. Era l'estate del 1848 e il nostro paese combatteva la prima delle tre guerre che l'avrebbero portato all'indipendenza. A Custoza, gli austriaci erano più numerosi e meglio armati dai nostri soldati. A Custoza, gli austriaci erano più numerosi e più numerosi e più numerosi e più numerosi e più numerosi. Vio, vio! Non fermarsi! Voi, vedi! Voi! 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 Non fermarsi! Voi, vedi! Voi, vedi! Guarda! Venta avanti! Fai su a terra! Guarda! 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 Forza! Nella cascina, forza! Guarda! Guarda, dentro! Avanti! Dai, Anni! Guarda, dentro! Entra! Via! No, 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 no. No, 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 no. Non ti preoccupare, non morire. I nostri sono vicini. Resisti. Porto una casa che la mia è che mi aspetta. Sì. Per pensare che eravamo in 4.000. Purtroppo adesso siamo circondati, signor capitano. Non resisteremo a lungo. Servirebbe qualcuno che andasse ad avvisare il generale Bass, là oltre il mince. Ma come si fa? Chi ci va? Serve un volontario. Ragazzi, serve un volontario. Ragazzi, serve un volontario. Eccomi, signor capitano. Non tu, sei troppo giovane. Non lascia andare. Qui non servo più a niente. Io sono il più piccolo dei soldati, così gli austriaci non mi vedranno. Va bene, ma devi stare attento. Raggiungi i nostri oltre il fiume e portali subito qui. Togliti la cintura, lo zano, devi essere veloce e leggero, capisci? Buona fortuna, ragazzo. Sergente! Aiuti il ragazzo! Mi raccomando, la nostra servizia è nelle tue gambe e che Dio ti aiuti. Coraggio e buona fortuna, ragazzo. Vai, corri, corri! Non ti fermare! Vai! Vai! Non lo fare, sergente. Speriamo proprio. Corri! E' un pulino, corri! Non ti fermare! È caduto. Eccolo, è in piedi. Ha paura, si nasconde. Piccolo codardo, ho sbagliato a mandare lui. È la fine. Immaginate per un attimo di essere quel tamburino. Che cosa avreste fatto? Allora? Io non mi sarei offerto, avrei avuto paura. Ci credo, sei un fifone. Franti, smettila. Non devi vergognarti di quello che hai detto, eh. La paura è un istinto naturale. Per cui, in guerra, chi non ha paura, o è un pazzo o un incosciente. Qualche di un altro... Io. Lo so. Tu ci saresti andato. Ma forse, vista la tua mole, saresti stato un bersaglio un po' troppo facile per gli austriaci, no? Vediamo un po' qualche altro. Su. Io ci sarei andato, come ha fatto mio papà che ha combattuto ogni re Umberto. Bravo. E tu, Franti, tu che non sei un fifone, che cosa avresti fatto? Sarei corsaggi zag, perché in guerra bisogna essere furbi come le volpi. Bravo. E tu sei una volpe, vero? Finita, esercente. No, non è finita, signor Capitano. Prima finita l'emunizione, come possiamo difenderci? Combattiamo fino all'ultimo colpo. Poi sei quel che sia. Ragazzi, sono fiero di voi. Avete combattuto da eroi. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Forza! Sono i nostri! Sono i nostri! Viva l'Italia! 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 Dov'è? Venga, mi seguo. Tutto bene, saldati. Bene, grazie. Sì, grazie. Sei qui, bravo tamburino. Grazie, signor Capitano. Ho fatto solo il mio dovere. Dove ti hanno colpito? Ora non potrò più essere il suo tamburino. Con tutta la corsa che ha fatto, si è compromesso la gamba. Quando è arrivato qui non c'era altro da fare. L'ho avessi visto, non ho un grido, non ho una lacrima. Sargente. Sargente. Sì, potrei continuare a suonare. Non ti dimenticheremo mai. Io sono solo un capitano, ma... Ma tu, caro amico mio... Tu sei un eroe. Ma c'è... Grazie.